Il digestore è tra gli argomenti che più di altri portano la temperatura tra le fazioni politiche al calor bianco, tra una maggioranza al governo della città, sindaco in testa, che si è schierata tra i sì facciamolo, Aset, l'azienda di casa che vorrebbe realizzarlo ma che non ha ancora ricevuto indicazioni su dove e né quando, ma che punta ai bei soldoni che gli entrerebbero in cassa per gli incentivi statali, e le opposizioni che in linea teorica vedono sì il digestore anche in modo favorevole, ma che dove ognuna per convinzioni differenti ha molti ma e moltissimi sé per i tempi, modalità, ragioni politiche e manovre speculative sulla sua realizzazione. Poi c'è ovviamente il fronte del no deciso, quelli del facciamo le barricate piuttosto che. Ma in tutto questo scenario tumultuoso nelle ultime 24 ore è arrivato un fulmine a ciel sereno che ha fatto saltare dalla sedia tutte le opposizioni e che hanno disotterrato così l'ascia di guerra tutti insieme. Una mozione urgente per il Consiglio Comunale di domani, 13 febbraio, proprio sul tema del digestore anaerobico, che vede la consigliera Carla Luzzi di Incomune come prima firmataria, ma che sarà sottoscritta da tutta la maggioranza. Il tutto per accelerare i tempi del confronto pubblico a riguardo della fattibilità di questo progetto, anziché aspettare il Consiglio del 24 prossimo. La cosa che ha dato la sveglia alla maggioranza sul digestore è stata la notizia recente che tra i due litiganti si è inserito un terzo che potrebbe banchettare se Aset rimane ancora ai nastri di partenza, ovvero la Feronia SRL, che vorrebbe farne uno nel Comune di Barchi. Ma quello che ha anche fatto gridare allo scandalo oggi pomeriggio è il metodo usato dalla Presidente del Consiglio, Carla Cecchetelli, per accogliere la mozione urgente. Ha fatto questo piegando ancora una volta il regolamento a proprio uso e consumo, per questo che presenteremo insieme a tutta l'opposizione una proposta di revoca. Il fatto è ancora più grave, soprattutto alla luce del fatto che non c'è stato lo stesso trattamento, proprio sulla dichiarazione d'urgenza di una mozione, nei nostri confronti a novembre. Si trattava di una mozione per un'emergenza, quella sì vera, quella che coinvolge la situazione dei licionolfi e non c'è stata la stessa premura della Presidente che in quell'occasione ci ha negato l'urgenza utilizzando un'interpretazione diversa del regolamento. Non esiste nessuna urgenza, non è accaduto nulla che possa giustificare questa motivazione dell'urgenza. Qui è stato fatto soltanto una specie di atto di forza, è un atto politico per cui la Presidente del Consiglio ha privilegiato la sua parte politica da cui lei proviene. Sì, è una cosa veramente molto grave quella che abbiamo letto nella mozione che è stata presentata dalla maggioranza in quanto c'è scritto nero su bianco che l'investimento del digestore andrà così a cambiare gli equilibri della Tari. Tradotto cosa significa? Significa che questo investimento che noi come Lega da sempre abbiamo sostenuto non potersi reggere da solo andrà a essere spalmato sulla tassa dei rifiuti che pagheranno tutti i fanesi, tutte le famiglie e tutte le aziende di Fano.